La gioia per la vittoria del terzo scudetto del Napoli e alle stelle rimarrà nella storia anche attraverso i racconti dei protagonisti azzurri degli anni d'oro dell'era Maradona. Da qui nasce l'idea di Campioni per sempre, un libro unico nel suo genere, capace di abbracciare con passione e amore generazioni di sportivi e tifosi. Momenti di gloria e ricordi che in queste pagine si fondono in un solo cuore azzurro. Gianfranco Coppola è riuscito in questa impresa editoriale mettendo in campo la sua grande esperienza di giornalista sportivo che lo ha visto in prima linea ai tempi dei primi scudetti del Napoli e che lo vede protagonista oggi nel ruolo di caporedattore della RAI di Napoli. Campioni per sempre, il frutto di una riuscitissima e innovativa alchimia che mette insieme le interviste a grandi protagonisti della storia vincente del Napoli e racconti del passato e del presente di grandi firme del giornalismo sportivo italiano. Il trucco è stato chiamare i vecchi campioni a commentare i nuovi con i quali avevamo frequentazioni continue, non come adesso che siamo costretti a rincorrere fra steward, segretari, guardia a spalle, procuratori. Insomma non c'è l'accesso alle fonti, è complicato. Noi andavamo anche in auto con i calciatori e tutti si sono prestati. Careca gli dico scherzosamente ma non troppo che ha detto che Osimè fa gollo alla Pelé perché non vuole immaginare un altro Careca e quindi dice che segna come Pelé. Ma oggi è più difficile fare alcuni accoppiamenti, ad esempio trovare il Lozzano di Turno, ci siamo industriati con Mauro ma avevano delle differenze. Però diciamo che è stato bello questo, io devo dire che all'epoca come oggi mi sono rituffato con grande emozione, mi sembrava che fossi più scafato e invece mi emoziona ancora per passione. Poi devo dire che la prefazione del Cardinale Seppi è un fiore all'occhiello ed ogni euro che guadagneremo è tutto per casa di Tonia, col Cardinale che è il nostro vero fuoriclasse oltre a nove meravigliosi colleghi con dei racconti splendidi.